Bene ragazzi, iniziamo altri esercizi. Allora, adesso entreremo in una componente ancor più dinamica, nella quale chiaramente sarà importante percepire il proprio livello di sforzo, mi raccomando, sempre uno sforzo moderato, non deve essere mai troppo elevato, quindi adesso vi chiederò in sequenza di fare un passo avanti ed un passo indietro, continuamente, uno avanti e uno indietro, uno avanti ed uno indietro, bene, chiaramente lavoreremo a tempo, manterremo questa sequenza avanti e indietro, non troppo veloce, mi raccomando, per circa 30 secondi, a partire da ora, avanti e indietro, piede, cercate innanzitutto nei primi secondi di trovare il vostro ritmo e accompagnate con tutto il corpo, ok, lo spostamento in avanti e indietro, bene, passo riunisco, passo riunisco, bravissimi, ancora qualche secondo ragazzi, bene, cercate di tenere sciolta la parte alta della schiena e stop, perfetto, adesso faremo il passo laterale, faccio il passo laterale, riunisco, passo laterale, riunisco, d'accordo? Bene, pronti, attenti, via, vai, laterale, riunisco, laterale, riunisco, cerco di essere sciolto nella posizione e mantengo un movimento coordinato, ancora, vai ragazzi, così, un po' come se fosse una coreografia, bene, perfetto, manteniamo uno spostamento laterale, ancora, ancora alcuni secondi, perfetto, vai così, ancora, ancora, ancora e stop. Bene, a questo punto iniziamo a mettere elementi un po' diciamo più diciamo articolati nei quali mettiamo il passo in oblicuo, quindi mi sposto avanti con il sinistro in oblicuo e richiamo, torno indietro in oblicuo e richiamo. La direzione sarà andando in avanti a sinistra, quindi andremo verso di là e partiremo sempre su e agiremo sempre su questa linea di movimento. Siete pronti? Ancora qualche secondo, pronti, attenti, via, per ritorno, vado, riunisco, torno, riunisco, vado, riunisco, torno, riunisco, in oblicuo sempre, cerco di mantenere posizione in oblicuo, bravi ragazzi, perfetto, ancora, via, ancora, via, ancora, via, via, e stop. Bene, andiamo nell'altra direzione in oblicuo, quindi in avanti e verso destra. Pronti? Via, 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 ancora, via, via, cercate ritmicità nel movimento, importante, il ritmo del movimento scandisce una buona distribuzione dello stesso, quindi mi raccomando. bravissimi, bravi, ancora un po', ancora qualche secondo, e stop. Bene, attenzione, ora sarò io a dettare, diciamo, la direzione che non sarà sempre la stessa, ma cambierà ogni volta, la sceglierò tra quella che abbiamo eseguito fino adesso. Allora, siete pronti? Allora, faremo una trentina di secondi così, pronti? Avanti, ritorno, sinistra, ritorno, oblicuo destra, ritorno, torno indietro, oblicuo sinistra, e torno al centro, avanti, ritorno a destra, ritorno avanti a sinistra, ritorno avanti a sinistra, ritorno avanti, via e ritorno indietro, via, ritorno avanti a sinistra, ritorno, andiamo a destra, ritorno e stop. Bene, ci siamo coordinati tra posizioni e direzioni diverse e come vedete bisogna ragionarci un pochino. Perfetto, adesso faremo un altro tipo di movimento in cui una gamba scivola dietro e le braccia si distendono avanti. Ci torniamo alla nostra posizione e ci giriamo frontalmente e facciamo la stessa cosa immediatamente dall'altra parte, quindi la sequenza è questa. Ok? Bene, ogni volta che cambio il lato di proiezione del movimento, cambio anche la gamba che va dietro, quindi se inizio proiettato verso sinistra, porto indietro la gamba sinistra, quando mi girerò verso il lato destro, proietterò dietro la gamba destra. Va bene? Siete pronti ad iniziare? Bene, pronti? Iniziamo sinistra, slancio, ritorno, avanti, destra, slancio, ritorno, avanti, destra, slancio, ritorno, avanti, sinistra, e slancio, ritorno, avanti, destra e slancio, ritorno, avanti, destra e slancio, ritorno, avanti, sinistra e slancio, ritorno, avanti, destra e slancio, ritorno, avanti, e stop. Perfetto! Ottimo ragazzi! Allora, procediamo, procediamo con la sedia. Allora, ragazzi, negli esercizi precedenti abbiamo fatto questi movimenti, ok? Cioè lo sfiorare e salire. Bene, noi partiremo però adesso da seduti, ci solleviamo in piedi, facciamo un passo laterale con il richiamo della gamba, torniamo al centro e torniamo a sfiorare la sedia seduta. Ci rialziamo e andiamo dall'altra parte, quindi faremo questo, ritorno e giù sfioro, mi alzo e continuo la sequenza, va bene? Inizieremo partendo con uno spostamento laterale verso sinistra. Allora, mi raccomando, gambe divaricate, scendo, sfioro la sedia, torno su sinistra, richiamo, torno, richiamo, sfioro la sedia, su, a destra, ritorno, richiamo, sfioro, alzo, sinistra, ritorno e giù, mi alzo, vado a destra, ritorno e giù, mi alzo, sinistra, ritorno e giù, mi alzo, a destra, ritorno e giù, mi alzo, sinistra, torno e giù, mi alzo, a destra, ritorno, mi siedo e stop.